Eccoci qua, benvenuti con un nuovo esercizio di allenatore.net Quest'oggi andiamo a vedere un esercizio interessante perché di fatto è l'unione di due esercizi in particolare, in una prima parte ci sono due sequenze di passaggio che vengono svolte in due spazi adiacenti che poi diventano un gioco di posizione quindi una prima parte analitica, una seconda situazionale chiaramente anche nella prima parte si parla di tecnica funzionale perché comunque si fa fare degli sviluppi e dei gesti tecnici poi nei ruoli e che ricreano varie situazioni di gioco reali ma andiamo a vedere tutto come sempre con Tactics Manager Eccoci qua, siamo su Tactics Manager, l'esercizio è già montato e quindi andiamo a vedere di cosa si tratta Allora, abbiamo posizionato in uno spazio variabile perché praticamente chiaramente è la descrizione della categoria dell'allenatore e degli spazi che abbiamo però considerate che trattandosi poi di una sequenza che va a ricreare situazioni di gioco reali e poi soprattutto dopo diventa un gioco di posizione sarebbe opportuno avvicinarsi comunque alle dimensioni agli spazi un po' reali chiaramente non si può andare a lavorare in massima impiezza però comunque gli spazi devono essere abbastanza ampi e adeguati poi al gioco di posizione Allora, prima parte della esercitazione due spazi adiacenti, in ogni spazio vengono svolti due sequenze di passaggio differenti è importante mettere bene i giocatori perché poi dopo deve nascere un gioco di posizione quindi è fondamentale capire questo aspetto che vi faccio vedere Allora, nella prima parte andiamo a mettere nel primo settore andiamo a mettere i quattro difensori due giocatori per ruolo due giocatori, un giocatore rosso e un giocatore blu quindi due giocatori per ruolo abbiamo poi un giocatore giallo che è il vertice basso e poi abbiamo due giocatori blu che sono i due mezze ali che lavorano con questo gruppo in questo settore si va a sviluppare una sequenza di passaggi sulla fase di costruzione che è un 4 più 3 si va a lavorare con tutti gli sviluppi diciamo classici quelli poi a discrezione dell'allenatore o lasciamo liberi i giocatori l'importante è curare bene gli aspetti tecnico-tattici individuali quindi le competenze tecnico-tattiche individuali e poi andare a lavorare un pochino su qualche sviluppo su qualche combinazione tipica di questa fase di gioco e la palla gira in questo modo nell'area adiacente quindi nel settore superiore invece abbiamo due giocatori esterni che sono le due ali abbiamo le due mezze ali questa volta rosse e poi abbiamo il giocatore giallo che è l'attaccante e qui andiamo anche qui a fare una sequenza di passaggi tipiche magari della fase offensiva quindi le combinazioni offensive che cosa succede? a un certo punto l'allenatore emette un fischio quindi dà un segnale e qui è il segnale e con quel segnale inizia il gioco di posizione generale che riguarda tutti i giocatori quindi diventa un 10 contro 8 perché abbiamo 10 giocatori di movimento contrapposti che sono i 4 difensori le due mezze ali per squadra i due esterni e abbiamo i due giocatori che sono il vertice basso e l'attaccante e quindi diventa un 10 contro 8 quale pallone è buono? lo chiama il mister quindi il mister chiamerà praticamente il settore o l'1 o il 2 magari li nominiamo con 1 e 2 chiama il settore nel momento che fissi e chiama il settore chi è in possesso nel momento che sta facendo la sequenza diventa attivo e quindi inizia la fase di possesso mettiamo che ci abbia la palla il giocatore rosso iniziano in possesso i rossi con i blu che devono difendere e inizia un gioco di posizione 10 contro 8 nelle posizioni dove l'obiettivo è mantenere e fare un tot e un numero per determinato di passaggi quindi si passa da un lavoro in posizione analitico di tecnica funzionale e si passa a un lavoro situazionale nel gioco di posizione dove si vanno a ricreare gli sviluppi che facevamo precedentemente senza avversario adesso lo andiamo a ricreare a mantenere questa palla in situazione con le pressioni avversarie e da qui comincia questa alternanza di sequenze di passaggio diciamo in modo analitico a gioco di posizione che riguarda tutto il campo tutti i giocatori contemporaneamente la parte poi chiaramente della sequenza di passaggio delle sequenze di passaggio viene considerata un recupero attivo quindi in quel momento in quei minuti noi faremo questo i giocatori lavoreranno tecnicamente e recupereranno e poi ripartirà nuovamente il gioco di posizione alternato sempre poi alle sequenze un modo per ottimizzare gli spazi ottimizzare i tempi non avere tempi morti e concentrare in un'unica esercitazione i vari aspetti sia la parte magari di attivazione unita subito poi al gioco situazionale alternato nuovamente alle sequenze insomma un'esercitazione che trovo interessante che permette appunto di ottimizzare sia i tempi che gli spazi andiamo a vederla come al solito in allenatore.net eccoci qua sono entrato nel sezione esercizi del sito allenatore.net vedete l'esercizio è il primo ho messo ecco qua basta cliccarci si apre e vedete tutta una bella descrizione e sotto altre magari esercitazioni legali qui tra l'altro abbiamo anche la pubblicità del corso di match analyst che stiamo organizzando molto molto interessante e andiamo a vederlo anche in New Soccer Drill invece guarda vado al passo di qua vado direttamente a New Soccer Drill da qua eccomi qua nuovi esercizi e andiamo a vedere ecco qua il primo ci clicco sopra si apre l'esercizio ben scritto gli obiettivi secondari e tutta la descrizione bene siamo giunti ai saluti abbiamo visto quindi l'esercizio dove trovarlo sia all'allenatore.net che in New Soccer Drill io vi ringrazio e vi risorto come sempre a vedere nel post tutti i link che trovate ad aprirli perché lì potete trovare le altre esercitazioni potete trovare e entrare dentro all'allenatore.net o New Soccer Drill e qualora non siate abbonati per accedere a tutti i contributi e tutti i servizi andate nella pagina di abbonamento vi invito anche a scrivere qualcosa a dire se vi è piaciuto l'esercizio o eventualmente a dirmi se avete qualche miglioria o qualche variante da mettere all'esercizio vi ringrazio vi saluto vi do appuntamento al prossimo video con un nuovo esercizio di allenatore punto net